Distruggere quella stazione colpirà la I.M. nel vivo. Se perdono tutto quel DNA inumano, metteremo i bastoni tra le ruote nei preziosi espedimenti di Monica. Il capo della squadra, Tio, è un inumano dotato di teletrasporto. È sveglio ma impulsivo. Demo che possa avere condotti i suoi uomini in trappola. Speriamo non sia così. Vi segno la stazione Hyper Circuit sull'interfaccia. Sembra che stia bloccando tutte le trasmissioni radio ad alta frequenza. Il che spiegherebbe l'assenza di comunicazione. La resistenza non usa l'avanzata tecnologia radio degli Avengers. Motivo in più per distruggere quella stazione. Un deposito di equipaggiamento A.I.M. potrebbe essere interessante. C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Speriamo che la squadra della resistenza si sia semplicemente persa. A quanto pare, il DNA inumano recuperato grazie agli Avengers è stato reso inerte dall'A.I.M. Se la resistenza non può utilizzarlo, distruggeremo quanti più carichi. Questo rallenterà gli esperimenti della dottoressa Raffaccini. Ecco l'anello vitale della catena di trasporto dell'A.I.M. Maledizione. Non c'è traccia di Tio e degli altri. Distruggete la stazione. Questo dovrebbe riattivare le comunicazioni, quindi prenderemo due piccioni con una fava. Vi ho indicato sull'interfaccia i trasformatori da distruggere. Non c'è traccia di Tio e degli altri. C'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Non c'è traccia di Tio e di Tio e di Tio e di Tio. Dove! 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 State per avere una brutta giornata! Dai! Giratevi! Ripessaci! Con un po' di fortuna, una volta distrutta la stazione, potremo contattare Tio e la sua squadra. Circondatevi! Second venture! Venge! Soffia! Ultime, colpiti! No! Siamo in grida! Si spengono le luci! Non guardate direttamente nel razzo, bambini! Non guardate direttamente nel razzo, bambini! Non guardate direttamente nel razzo, bambini! Non guardate di fronte! Non guardate direttamente nel razzo, tog si spengono! Non guardate direttamente nel razzo! Dov'anno! No, 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 no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Richiedo assistenza. Tio, ti riceviamo. I rinforzi stanno arrivando. Tenete duro. Oh, grazie a Dio. Ricevuto. Faremo del nostro meglio. La nostra teoria era corretta. La stazione bloccava le trasmissioni della squadra. Ho le loro... Vieni qui. Forza. Occhio! Sorpresa! E... esco di scena! Doc, hai mandato gli Avengers a salvarci? Soltanto il meglio. Io, la tua squadra può combattere. Passiamo e vogliamo. Buonanotte, Dio Zinza. Non difendere. Vieni con qualcuno della vita. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Grazie a tutti! Amici! Lunga vita alla resistenza! Io ho già presentatela, Hulkbuster! Colpisco e scompaio! 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 Lunga vita alla resistenza! Colpisco e scompaio! Colpisco e scompaio! Colpisco! Colpisco e scompaio! Lunga vita alla Resistenza! Non lo rimparano mai! Come ci si sente a combattere un fantasma? Come ci si sente a combattere un fantasma? Colpisco escompaio! Ok! Tio, va mentre gli Avengers cercano di entrare. Ci vediamo dentro, Avengers! È bello dare una lezione così all'AIL. Concordo. Segno l'ingresso sull'interfaccia. È arrivato! L'ingresso è poco più avanti. Raggiungetelo. Avengers, possiamo farcela! Endietro! 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 Mi serve più tempo. Non fate avvicinare i nemici. Si! Allia, sono! Neginjata! Neginjata! OK! Egli subito! Egli partimi! N smokiarono! Annietro! È r impedire! Rasi, resisti. Ma guarda, Fios, sono io! Fulgine, colpiscine! Ho quasi finito. Tenete duro. Che cosa faccia? Perché non vi prendete una pausa? Non si, non si, non si, non si. Ma scuro! Deve armi! Non ti riesco a rinforzare. Arriba! Arriba! Arma secreta! Ora si che si perciamo! No! 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 Ecco fatto, siamo dentro Dobbiamo muoverci velocemente Prima che l'IM possa reagire L'IM ha rinchiuso quattro inumani come animali Dobbiamo liberarli Concordo Avengers, quando raggiungerete le celle vi spiegherò come fare So che siete gli Avengers Ma sono sbalordito che vi siate aperti la strada In una struttura IM ad alta sicurezza Quando sono in gioco vite innocenti Non possiamo che combattere Preparare soggetti inumani per il trasferimento Brigatevi, non posso teletrasportarmi nelle celle Deve essere l'interferenza dei campi di forza Ci siamo qua Io, non appena un prigioniero è libero, teletrasportalo fuori Accedete ai generatori dei campi di forza delle celle Usando il computer della sala di controllo Poi distruggeteli mentre sono esposti Io teletrasporterò fuori i prigionieri Non appena sono liberi Non voglio neanche pensare cosa intendesse fare Monica con queste persone Abbiamo buone possibilità Ben fatto Eccellente I generatori della cella sono vulnerabili E' ora di fare sul serio Che chiamerai? Un cluster No No Eccellente Ora distruggete i generatori della cella Amore Non E' 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 No! 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 Bene, parola! Eccellente! Ora distruggete i generatori della cella. Ha funzionato. Io uso i suoi poteri. Ora sei al suo. Ben fatto. I generatori della cella sono vulnerabili. Quello era un colpo. Dore a terra! Avengers! All'attacco! Il campo di forza è andato, Tio. Ricevuto! Tieniti in fondo. Elementi! Al mio servizio! No! I generatori della cella sono accessibili. Ok. Ok. Facciamo 10. Non mi sento molto bene. uffi! Vai! No! 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 I generatori della cella sono accessibili. Ha disattivato il campo di forza. Tio, entra nella cella. Ottimo lavoro. Avete esposto i generatori di quella cella. Quello era l'ultimo. Oggi vi siete davvero superati, Avengers. Ottimo lavoro. Avete esposto i generatori di quella cella. Ottimo lavoro. Analizzeremo i dati il prima possibile. Non sapete neanche quanto sono preziosi questi dati. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. è andato storto. Molto storto. Ho perso i contatti prima che completassero la missione. È fondamentale che quella stazione sia distrutta e i miei uomini salvati. Vi prego. Ci pensiamo noi. Ho saputo la cosa stai passando. Oh mio Dio, ma ciao! Questa unità Roy non è dotata di produttori e caffè. Il Dottor Pim incoraggia pause regolai ed esercizio all'interno del riparto. Ben fatto. Lo apprezzo molto. Scelta interessante. Non preoccuparti, sto solo prendendo appunti. Questo ha molto più senso della mia previsione. Allora, pensi di poterci fare un favore? Ehi, mi farebbe comodo una mano. Il deserto dell'Utah è abitato da diverse specie di ragni e ulteriori. Ti ho già detto, grazie. Bene, grazie. Davvero, a tutti. Benvenuti. Ah, il libero arbitrio. La Emilio. Fammi sapere quando hai finito, ok? Grazie. Vorrei che gli agenti shield fossero così disponibili a fare favori. Vorrei che gli agenti shield fossero così disponibili a fare favori. Non posso credere di più. Fammi sapere di più. Abbiamo chiesto altre giunture. Vorrei che gli agenti shield fossero così disponibili a fare favori. Davvero? Sei grande? Vorrei che gli agenti shield fossero così disponibili a fare favori. Davvero? Sei grande? Fammi sapere quando hai finito, ok? Grazie. Davvero, non mi piace? Grazie a tutti 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 Cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze Ci vorrà solo qualche istante Dovete sconfiggere tutti i membri della squadra d'elite Grazie a tutti 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 Oh oh, vedo dei cattimoni Se fossi voi, se fossi voi, scapperei Più avanti, c'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze Ecco, 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 ecco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti